Siamo qui con questa famiglia, di dove siete? Di Rò. Siete venuti a vedere il Papa, perché? Perché ne avevamo voglia, perché volevamo sentire la sua preghiera. È un bel evento e ne abbiamo approfittato. È stata un'emozione grande, immagino. Un'emozione grandissima, sicuramente. Lui è meraviglioso. Cosa vi colpisce di più di questo Papa? L'essere vicino alle persone più umili. Che è naturale, è spontaneo. Così, piace. Siete riusciti a sentire le parole che ha rivolto ai sacerdoti in Duomo? Cosa vi ha colpito? Siamo sentiti. Consiglio di stare più vicini ai fedeli, di raccogliere la comunità. Comunque, belle parole che ci hanno colpito, sicuramente, come sempre. Il Papa ha fatto delle scelte molto precise sulle tappe da toccare in questo viaggio. Ha visitato un quartiere popolare, andrà adesso in carcere. Cosa ne pensate di queste scelte? Sono scelte che fanno bene per quelle che ci sono persone che sono in carcere, che hanno bisogno di sentirsi più vicini, con la chiesa, con i convori. Queste persone bisognose che abitano in condizioni che ho visto in tv, e poi non so bene dove c'è questo quartiere. Però sono delle cose belle, belle che le dovremmo fare anche noi, forse, queste cose. Aiutare a chi ha bisogno. Che noi, grazie a Dio, ce la capiamo. Ce la capiamo. Grazie.